Il comune e la città di Trapani hanno incontrato Stefania Auci, autrice del libro I Leoni di Sicilia, ospite ieri pomeriggio nella sala sodano di Palazzo Dalì. Alla scrittrice trapanese, il sindaco Giacomo Tranchida, a nome della città, ha consegnato un riconoscimento per lo straordinario successo del suo best-seller. I Leoni di Sicilia approderà sugli schermi della RAI con una fiction ispirata al racconto dei Florio. È il romanzo italiano più venduto nel 2019. Il libro vanta traduzioni in diverse parti del mondo. Gremita la sala sodano, Stefania Auci ha dialogato con il giornalista e scrittore Giacomo Pilati. Beh, diciamo che è una cosa che mi emoziona molto, perché comunque, per quanto io vivo ormai da 15 anni a Palermo, gli affetti, la mia storia, tutto quello che mi appartiene nasce e rimane qui a Trapani. Quindi diciamo che per me è un momento importantissimo essere qui ed essere qui oggi dopo aver raccolto gli allori di praticamente di tutta Italia, però casa è casa. Ti aspettavi tutto questo successo? Dai, è una domanda che mi fanno spesso. La mia risposta è sempre la stessa. No, ma perché nessuno si può aspettare come vanno certe cose. È un po' come appunto, come quando nasce un figlio. Tu non sai se quel figlio sarà un genio, sarà una capra, sarà un asino, sarà una persona assolutamente specchiata oppure ti viene fuori un delinquente. Non puoi saperlo. Ci metti il tuo, ci metti l'educazione, ci metti la tua parte di volontà in quanto genitore, ma poi il resto dipende da lui. Quindi sono felice sicuramente che sia andato così bene, ma è qualcosa che nessuno può mai aspettarsi e su cui nessuno può dire una... può fare una previsione, può mai azzardare una previsione. Ci sono delle... qualcosa di imponderabile che appunto scatta e che fa diventare un libro o un figlio qualcosa di assolutamente speciale.